E' importante che le istituzioni del territorio abbiano questa, sembrano l'importanza di tutto questo, per cui sia poi il mestiere che le istituzioni fanno, per cui anche il nostro ateneo in questo ha cercato di essere presente con i nostri ragazzi, con le nostre ragazze, con i nostri docenti, con il nostro assessorale. Io volevo soltanto farvi vedere un piccolo sport, che dura pochissimo, è uno sport che abbiamo fatto quest'anno, che è stato messo in onda durante le partite di calcio, nel mese di novembre, il mercato di calcio ha accennato questo, è stato messo in onda in aeroporto, sempre nel mese di novembre, è stato messo in onda anche nei pulmami e nei pass cittadini. Ed è una cosa che non rinnoveremo tutti gli anni. Un'altra cosa importante che stiamo facendo, abbiamo fatto un concorso,